Il grande caldo che spaventa, la preoccupazione per l'assenza di precipitazioni e il conseguente aumento della siccità si è trasformata presto in emergenza. I bacini, gli invasi e i fiumi toscani sono ai minimi storici, dall'Arno all'Ombrone passando per il Serchio, dal lago di Massaciuccoli fino a quello di Chiusi tra Umbria e Toscana. La situazione è critica. Scatta dunque in 90 comuni, un terzo di quelli toscani, un'ordinanza per limitare il consumo di acqua e tamponare le conseguenze della siccità. Si impongono consumi limitati di acqua potabile soltanto per usi igienico-domestici e multe salatissime fino a 500-600 euro per chi farà utilizzo improprio dell'acqua vero oro blu di questa estate. I divieti resteranno in vigore fino al 31 agosto a fare le spese dell'attuale emergenza idrica, in particolare le attività del settore primario, stalle, vendemmie, frantoi e raccolta di pomodori, ma anche tutte le altre attività di trasformazione che necessitano di acqua. Le poche gocce che nelle scorse ore hanno bagnato appena il terreno arido di buona parte della Toscana sono state solo una meteora. La situazione, se si guarda avanti, resta preoccupante. Le previsioni del tempo elaborate dal Consorzio Lama per i prossimi giorni dicono zero pioggia e temperature in aumento fino ai 40 gradi di lunedì.